Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! 7 dicembre Oggi il pacchettino è piccolino ma appunto perché è così piccolino mi incuriosisce ancora di più Vediamo cosa esce Questa è opera del mio amico Mario Sì, è proprio lui Un pentolino di ceramica me l'ha bucato per renderlo a vasetto Troppo grazioso, bellissimo! In questo piccolo vasetto ci metterò delle piante grasse tipo i litops che sono piccolini e ci stanno giusto comodi dentro Spero che i miei video spacchettamento vi stiano piacendo Vi ringrazio per la visione e a domani Ciao ciao!